Musica Oggi la Mela Rossa Cuneo IGP ci porta a iniziare la giornata in uno splendido hotel del centro storico di Cuneo Cioè l'hotel principe, effettivamente siamo in un palazzo ottocentesco per cui ci va di iniziare il giorno in modo semplice ma insomma con un tocco importante Ebbene sfogliando il menu dell'hotel principe abbiamo nella carta della prima colazione una proposta originale che è dedicata alla nostra mela Un tris di mela rossa Cuneo IGP In cosa consiste il tris? Molto semplicemente c'è diciamo un accostamento che esalta sia chi ama il dolce sia chi ama il salato ma soprattutto la sostenibilità del territorio Quindi una classicissima torta di mele tra l'altro con quasi una doratura in superficie di mele tagliate a fettine che esalta proprio la corporatura della mela E accanto a questa abbiamo anche una versione più salata ecco che tra l'altro ripropone anche un accostamento a quella che è il clou, il cuore della produzione del territorio Cioè abbiamo una fetta di pane integrale quindi ai cereali e sopra c'è troviamo un velo di marmellata di mela Ovviamente di mela rossa Cuneo IGP poi un pochino di robiola poco stagionata e poi sopra diciamo così un piccolo ventaglio di foglioline di mela Quindi sono state prese delle fettine spezzettate, sminuzzate, molto sottili che vanno così a impreziosire in superficie la nostra crosta di pane che volendo si può anche tostare prima Poi c'è il, visto che parliamo di tris, abbiamo un mix liquido solido e quindi c'è del latte e poi abbiamo dei cereali, un mix di frutta essiccata In questo caso ritorna la nostra mela insieme a frutti di bosco, qui abbiamo anche le banane, insomma c'è la mela in tre versioni distinte e anche in tre modi totalmente diversi Ovviamente dobbiamo anche fare un brindisi e oltre al latte abbiamo la possibilità magari con la torta piuttosto che con la crosta di pane di accompagnare un succo di mela del territorio Quindi anche il settore della trasformazione oltre alla mela vista fresca viene assolutamente contemplato Per cui un ottimo modo per iniziare la giornata direi da re, infatti siamo all'Hotel Principe Grazie a tutti Grazie a tutti